L'appuntamento è domani sera alle 20.30 alla Salerniana, che è l'ex palazzo della Vicheria. Di cosa parla Ciappani? Ciappani parla un po' di noi, parla di un ragazzo argentino che viene qui in città e vede gli occhi di uno straniero e che utilizza come lente di trasmissione quella del lavoro, quella del mercato del lavoro, della difficoltà di mantenere il proprio posto di lavoro e alle volte anche di trovarlo. Raccontiamo alcune storie che raccontano Ciappani attraverso il lavoro. Ti aspettavi questo successo? In realtà siamo arrivati alla quinta messa in onda di questo docufilm che in realtà probabilmente è quello che la gente voleva vedere. Sì, non ce l'aspettavamo nella maniera più assoluta, infatti per questo abbiamo programmato le prime due proiezioni, poi abbiamo fatto una replica per la terza e poi un'altra ancora per la quarta. Adesso abbiamo valutato, diciamo, necessario riproiettarlo prima della chiamata alle urne e è qualcosa che possiamo fare perché insomma non andiamo a intaccare il silenzio elettorale e credo che siano storie che tutti i trapanesi, alcuni conoscono già, altri devono conoscere e probabilmente molti devono viverle in maniera emozionale, non semplicemente come fatto di cronaca che sono tra i tanti fatti di cronaca che poi ci vengono proposti ogni giorno e che io per primo insomma scrivo così come voi. Dovresti dare un aggettivo a questo lavoro, credi sia utile oppure che aggettivo daresti? Credo che sia fondamentale per la memoria storica di questa città, credo che sia fondamentale per ricordarci chi siamo almeno fra dieci anni, probabilmente sarà più fondamentale fra dieci anni che adesso. Crediamo di aver fatto un buon lavoro per la memoria storica di questa città e ne siamo lieti.